Allarme Meteo Italia. Il severo avvertimento del rinomato colonnello a dicembre ci sarà. Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Dunque, dicembre sta arrivando, ma sorprendentemente, sembra che il clima abbia in serbo delle sorprese per noi. Le previsioni meteo ci dicono che ci aspettano temperature insolitamente miti. Tuttavia, è importante chiarire che questa insolita mitezza non coinvolgerà tutto il paese, ma si concentrerà su alcune regioni fortunate. In alcune zone, addirittura, potremmo toccare la soglia dei 30 gradi Celsius. Stiamo parlando di un clima decisamente fuori dall'ordinario. Dicembre in Italia ci fa solitamente pensare a neve e freddo, ma quest'anno sembra che il caldo abbia deciso di prendere il sopravvento fin dai primi giorni del mese. Nel dettaglio, al nord e lungo il versante tirrenico, le previsioni prevedono piogge dovute a una perturbazione che arriva direttamente dai giorni di novembre. Nel contempo, sulle Alpi, ci aspettiamo abbondanti nevicate. Ma altrove, il caldo farà da padrone, con punte di temperatura che potrebbero raggiungere i 25 gradi Celsius e persino sorprendenti 30 gradi Celsius in alcune zone. Sulle Alpi, invece, ci prepariamo a un bel manto di neve. Le regioni coinvolte includono la Lombardia, il settore Ligure e l'Alta Toscana. Domani, le perturbazioni si sposteranno verso l'Italia peninsulare e le regioni meridionali. Al sud, venti moderati o localmente forti alimenteranno l'innalzamento delle temperature. In alcune parti del nostro paese, potremo persino sfiorare i 25 gradi Celsius, soprattutto lungo il medio Adriatico e al sud, sulla costa tirrenica della Sicilia. Insomma, il meteo di dicembre ci sta riservando un'avventura interessante. Siamo pronti a vedere cosa ci riserverà il prosieguo del mese. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e, come sempre, continuate a seguirci.